Meraviglia! I giullari della regina bianca! Friccio! Il sticcio! E siamo qui per servirla! Era da tanto che non mi divertivo così! Sentite, me lo daresti una mano a trovare un mio amico? Eh sì, sì, sì! Almeno lo era fino a qualche tempo fa. È un coniglio molto tenero e un po' buffo. Ho perso le sue tracce e non so più come fare per trovarlo. Un coniglio? Sì. Col panciotto? Sì. Il cipollone? Sì. Colore che fa fudore, con la piccola ricetta fa pastogine, sdrucita, atteggiamento pofrettato? Sì! No, ti spiace? Ma incontrato? C'è! We have to see the wizard, the wonderful wizard of Oz, because, 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 because! Sì! Sì! Grazie a tutti.